Del rammarico, specialmente per come è avvenuta, però comunque noi avevamo preparato un certo tipo di partita ed è stata quella, con delle difficoltà in più che potevano essere ovviamente il campo che non ci permetteva di giocare come avevamo preparato o comunque che lo rendeva più difficile, noi ci abbiamo provato, specialmente nel primo tempo, anche riuscendoci abbastanza sapevamo che loro avrebbero fatto questa partita qua, definire calcio è un tipo di calcio, non è il calcio che proviamo a fare noi però loro fanno una cosa e la fanno bene, per carità. Non era facile, stavano tanto bassi, calciavano sempre questi palloni lunghi e quindi trovare spazi era difficile, quando siamo rimasti uno in più, poi abbiamo preso gol subito qualche minuto più tardi e quindi abbiamo agevolato questo loro modo di giocare, perché comunque stavano ancora più bassi di prima e ripartivano gli episodi sono girati a loro favore, soltanto fortunata no, perché comunque loro hanno vinto e noi abbiamo perso e non è mai solo fortuna, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più Abbiamo subito gol nel momento, secondo me, più sbagliato della gara, perché erano appena rimasti in un in meno loro e questo, subire questo gol, ci ha sicuramente tagliato le gambe e comunque sul gol non dobbiamo accusare nessuno ha messo una bella palla, noi siamo scappati, però sul secondo pallo è arrivato prima il loro difensore rispetto al nostro Sì, sicuramente, abbiamo preparato questo tipo di partita sapevamo come loro avrebbero interpretato questa gara e si sarebbero schiacciati e così è stato noi avevamo il pallino del gioco in mano infatti il possesso di palla è sicuramente superiore al nostro rispetto a loro però gli episodi sono girati a loro favore e hanno vinto grazie 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 grazie